Abbiamo parlato della seconda ondata che ormai è arrivata, quindi è tanto temuta, ma i numeri ormai consolidati dimostrano che c'è in Abruzzo come nel resto d'Italia questa nuova ondata di contagi. Sono un appello alla responsabilità e nel contempo una presa di coscienza alle dichiarazioni del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio preoccupato dall'aumento dei contagi nel giro di tre mesi decuplicati. Il numero zero nella casella dei contagiati a luglio aveva fatto sperare che l'autunno potesse essere meno duro della primavera segnata dal lockdown, ma i numeri e la situazione fuori dai confini nazionali non fanno dormire sonni tranquilli. Molti si sono, ci siamo rilassati pensando che l'emergenza fosse terminata e che magari con un po' di ottimismo si poteva sperare che non tornasse più. Invece il virus circola e le prospettive che i virologi, i medici ci hanno sempre descritto di dover imparare a convivere, almeno per un'altra stagione, fino a quando non ci saranno terapie molto efficaci o addirittura un vaccino anche in quantità tale da poter creare l'immunità di gregge. Quindi dovremmo continuare a convivere e imparare a convivere con il virus. Il DPCM firmato questa notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte è un nuovo giro di vite a diverse attività, prime fra tutti quelle ricreative degli eventi, nel tentativo di evitare il ritorno ad una serrata generalizzata. Il documento è arrivato dopo un lungo confronto anche con le regioni, che ha visto il presidente della regione Abruzzo critico verso le restrizioni agli sport amatoriali di contatto e per la presenza del pubblico in occasione di eventi, settori nei quali proprio l'Abruzzo aveva fatto da apripista alle riaperture. Marsilio altresì è tornato a chiedere un ristore economico per le attività, costretta ad un altro mini-lockdown, cosa che aveva già fatto in occasione della visita a Teramo del Premier. Se bisogna adottare delle restrizioni che impediscono a delle categorie di cittadini e di imprenditori di poter lavorare, di poter portare avanti le proprie attività economiche, deve scattare immancabilmente un meccanismo di solidarietà che porti al ristoro economico di questo blocco, di questo danno. Per quanto concerne l'anno scolastico, infine, il presidente della Giunta regionale ha garantito che si concluderà comunque o in presenza o a distanza, scacciando dunque rischi di blocco della didattica, peraltro negato anche dal ministro dell'istruzione a Zolina. Nel caso di nuove restrizioni, ha concluso Marsilio, si potrà andare avanti e garantire il proseguio delle attività didattiche.